La nuova puntata di Effetto Notte è dedicata alle dive di ieri e di oggi. La vera vecchiaia è quando un individuo non ha più desideri. Finché ne hai rimani giovane. Tra donne fatali, spie. Ci sarà un prezzo da pagare. Un prezzo per il tuo paese e per la tua famiglia. Compagnie di viaggio. Belle! E amanti della buona cucina. Il gusto e il profumo incredibili. Effetto Notte venerdì alle 22.35 e domenica alle 23.45.